Benvenuti a meteogulianci.it, domani giovedì 3 maggio, bel tempo su quasi tutta l'Italia per la presenza di un'alta pressione sul Mediterraneo occidentale, che lambisce però anche l'Italia. Ma vediamo la mappa del satellite virtuale, vedete in effetti un'Italia quasi ovunque libera da nuvole. Che tempo allora farà domani? Bene, bene, bello soleggiato, vedete, su quasi tutta l'Italia a parte qualche nuvola innocua sull'Alto Adige e la Valtellina, insomma non c'è nient'altro da commentare se non il tempo bello. Per quanto riguarda le temperature massime, queste saranno in ulteriore calo di 2-3 gradi al sud e su valori, su quasi tutta l'Italia, intorno a 18-21 gradi con punti di 25 gradi nel Siracusano. Bene, per il momento termino qui, vi ricordo che se voi vorrete potrete iscrivervi alla nostra newsletter digitando www.meteogiulianci.it e riceverete gratis sulla vostra posta elettronica il nostro bollettino relativamente al tempo sul Nord Italia, sul Centro Italia e sul Sud Italia. Grazie ancora, un buongiorno. Grazie. 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 Grazie.